I sacrifici che fate non sono ovviamente una cosa facile, lo avete fatto per scelta, lo avete fatto per scelta e quella scelta è una scelta d'amore e questo dimostra che voi siete persone libere, perché dice il filosofo Gustav Tipo che l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno, è libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama ed è schiavo nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. I vostri sacrifici, le vostre rinunce dipendono da quello che amate, che rendono liberi e rendono la vostra nazione libera. Non è la credibilità che oggi abbiamo costruita per gran parte dalla politica, no decisamente no. La politica, buona parte della politica ha potuto soprattutto forgiarsi, freggiarsi del vostro esempio. Quindi l'Italia vi deve dire grazie, banalmente deve dirvi che riconosce il vostro valore e che come la patria può contare su di voi. Spero che voi sappiate che potete contare sulla patria.